Il nostro è un omaggio appunto alla figura di Giacomo Puccini di cui con il maestro pianista Raffaele Di Berto porteremo in scena le roine delle principali opere liriche pucciniane passando per Turandot, La Bohème, La Rondine eccetera non vi annunciamo tutto. Sono particolarmente felice di illustrare attraverso la spiegazione, il commento, la ricostruzione storica della musicologa Diana De Francesco nonché la voce recitata dell'attore Edoardo Siravo il rapporto mai nato tra D'Annunzio e Puccini che tentarono più volte di collaborare purtroppo in vano per diversità di vedute e di stili.